La politica marsalese è stata completamente bloccata dalle accredini interne che ci sono nella maggioranza. Come avete potuto capire tutti e vedere tutta la stampa, qua c'è sombremamente una biega lotta per le poltrona, la maggioranza si è completamente spaccata, spero che alcuni tengano la schiena dritta e capiscano che il bene della città viene prima di ogni cosa. Me lo auguro per loro, per questi protagonisti di queste ingloriose vicende. Guardi, sulla sanità, sul porto, abbiamo tutto bloccato, non c'è un'iniziativa, non c'è tutto quello che era stato fatto in precedenza negli anni scorsi, è stato completamente completamente reso inutile e completamente siamo inermi di fronte a un'amministrazione che non fa nulla se non passerelle e assolutamente porta in Consiglio Comunale, nella casa, nell'assise massima dove si devono risolvere i problemi della città, pure le beghe politiche, le piccole diatribe di bassa lega che coinvolgono tutti gli esponenti della maggioranza. E questo mi dispiace molto, noi faremo una guerra assolutamente politica e di etica su questi valori che trovo assolutamente indiscutibili e che devono assolutamente portare di nuovo sul tavolo del dibattito gli interessi della città.